Primo tempo Genoa, Dinamo, Mamdom, risultato di 4 a 1, caccavale 4 a 1, avvio un po' soft, poi avete ingrandato la marcia e state giocando molto bene, cosa si deve fare nel secondo tempo? Dopo qualche incognizione inizierà la partita, è uscita più nella distanza e quindi stiamo facendo il nostro gioco di possesso e azioni di rimessa sul secondo palco. Va bene insieme, grazie in bocca al lupo. Andiamo dai Cirillo, Cirillo 4 a 1 per gli avversari, cosa si deve fare nel secondo tempo? Dobbiamo cercare di difendere meglio. Va benissimo, grazie in bocca al lupo, ci vediamo per il secondo tempo di Dinamo, Mamdom contro Genoa. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita, bisogna affrontarsi Dinamo, Mamdom contro Genoa. Genoa che vince con per il Macri Matto, con 7 gol del bomber, Capozzo. Signore dei suoi, Alessana, una prima partita con questi ragazzi che comunque sono giovani, avete fatto una buonissima partita per 35 minuti. Ragazzi, mangiiamoci ciò, ma poi alla fine avete un po' mollato, per essere ricco. Sono stati più bravi loro, più bravi a mettere la partita, ma è più bravi loro, ma è più bravi con lui a fare tanti gol, complimenti a lui. Senti, a chi vuoi dedicare con le persone? Sì, c'ho due bambini a casa, tutti e due. Grazie ragazzi, bravo, ciao, complimenti. Capozzo, passiamo a te, buonissima partita. Forse un po' addormentati appena iniziato il secondo tempo per circa 10 minuti, quando loro hanno provato la rimonta. Sì, ma sono stati anche gli avversari che ci hanno messo giù, ci aspettavamo qualcosa di meno, invece sono stati molto molto bravi. Sì, sì, assolutamente, senti Capozzo con questi sette gol, ti confermi bomber della competizione. A chi vuoi dedicare con le prestazioni? Questa volta li dedico a mia moglie che è in attesa, gli do un grande bacio. Bocca a lui per il positivo del torneo, ciao ragazzi. Grazie. Grazie.